E' il responsabile degli attrezzi da giardino. E' tutta colpa mia. E' una nullità, Malosan. Lei è rottamato. Lei panchettiamo per le feste e la buttiamo nell'immondizia. Ma non vale la pena di arrivare a questa? Ma sì. Ma no. Ma sì. Sono una giornalista. Non preferisce che facciamo conoscenza? Guardi che sono molto affettuoso io. Ti sembro quel genere di donna? E' di colpo! Un'enorme esplosione! Un fuoco d'artificio d'esplosione! Un esplificio? Lei è il nostro primo sospettato. Mi devi aiutare. Devi farmi entrare nel grande magazzino. Di notte. Voglio perquisire l'ufficio del tuo capo. Voglio Malosan. Lei sa dov'è? Beh, normalmente è sulla luna. Scende solo per atterrare nella merda. Siamo in pericolo. Ma no, è un gioco. Mi prendi per il culo? Grazie a tutti. Grazie a tutti